Vogliamo un centro storico sempre più a misura d'uomo, ma il pericolo di una trasformazione in un ghetto è proprio dietro l'angolo. È una presa di posizione ferma ma collaborativa quella che esprime Confartigianato sulla delicata tematica della ZTL di Arezzo, dopo che il Comune ha annunciato un nuovo piano per l'accesso al centro storico che entrerà in vigore dal 24 di ottobre con modifiche sia alle modalità di accesso della ZTLA che di quella di tipo B. Gli interventi modificativi della ZTL, dicono la Confartigianato, sono stati semplicemente presentati alle categorie in due brevi rignoni. La prima relativa alle consegne da parte degli autotrasportatori e la seconda al nuovo regime per gli artigiani, in particolare per coloro che effettuano interventi anche a carattere di urgenza. In quelle sedi, afferma Luigi Casagrande, presidente del Comitato Comunale di Arezzo, abbiamo espresso le nostre perplessità che a onor del vero hanno anche portato a lievi modifiche senza le quali questi provvedimenti sarebbero stati ancora più penalizzanti non solo per i nostri imprenditori associati ma soprattutto per i cittadini e le attività produttive localizzate nel centro storico che necessitano di interventi di manutenzione e riparazione. Abbiamo ribadito all'amministrazione comunale la nostra richiesta di una gestione più snella ed efficace dei permessi che possa utilizzare semplici e metodologie telematiche e che possano evitare un'inutile e costosa proliferazione delle autorizzazioni. Questo nuovo piano per la ZTL dunque non ha l'avallo di confartigianato.